PESCANTINA Pescantina, sinistra adige, provincia di Verona Pescantina, antico pescante, pescatore, porto sicuro La strada Zaia è un percorso che costeggia l'abige un sentiero immerso nella natura da cui si possono ammirare le numerose ville d'epoca La chiesa di San Lorenzo a Pescantina arreda questo scorcio ad abige La chiesa di San Lorenzo a Pescantina